Siete biologi e state studiando gli ecosistemi del Nord America. Solo colui che riuscirà a costruire gli ecosistemi più solidi sarà il vincitore. Ciao a tutti e benvenuti nel canale YouTube della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio parlare di un gioco da tavolo. Keystone, Nord America. Questo, signori, è un gioco di Jeffrey Joyce e Isaac Vega, pubblicato da Rose Gauntlet Entertainment. E quella che vedete qui è la Deluxe Edition, che ho ricevuto dopo aver sostenuto il gioco in una campagna Kickstarter. Abbiamo forse fatto anche un unboxing qualche settimana fa, se non ricordo male. Keystone, Nord America, signori, è un gioco quasi astratto, un gioco, diciamo, molto enigmistico, in cui dobbiamo prelevare delle carte da un display e disporle nella nostra plancia in maniera da creare uno schema un po' tipo sudoku, che abbia dei numeri, diciamo, in sequenza e che abbia anche delle determinate combinazioni di simboli. Questo video che state guardando è un tutorial con esempio di gioco, quindi qui spiegheremo dettagliatamente come funziona questo gioco e vi faremo vedere anche un qualche round di esempio, quasi una partita completa in realtà, di esempio. Però sappiate che qui sul canale abbiamo anche un altro video in cui facciamo la nostra analisi critica del gioco, vi diciamo cosa ci piace e cosa non ci piace di questo gioco. Ma ora, signori, bando alle ciance, bando agli indugi, abbassiamo lo sguardo sul tavolo da gioco e scopriamo insieme come funziona Keystone, Nord America. Signore e signori, ladies and gentlemen, ecco a voi Keystone, Nord America! Allora, signori, come funziona questo gioco? Questo è un gioco di, potremmo dire, card drafting, potremmo dire tableau building, potremmo dire set collection. Allora, vedete, ogni giocatore ha una plancia, ok? A sua disposizione, che rappresenta, vedete, uno schema di 4x4 caselle. Faccio notare che questa è la Deluxe Edition che io ho preso su Kickstarter, quindi, per esempio, questo PlayMath che vedete qui nell'edizione retail normale non c'è. Non è così fabbamentale, insomma, si possono tranquillamente organizzare tutti questi elementi in giro per il tavolo senza bisogno di un PlayMath. E questi elementi, vedete, questi qua che si chiamano Synergy Tokens, queste ghiande nella mia versione sono di legno, anche questi qua, vedete, che si chiamano Research Token, credo, sono semplicemente di cartone nella versione, nella versione non Deluxe. E un altro elemento di diversità tra versione Deluxe e versione non Deluxe è che la versione Deluxe, guardate, le planche del giocatore hanno questi bellissimi artwork, vedete? Solo che io, e sono tutti diversi, guardate, questo per esempio è quello, vedete, a tema invernale, e questo qui invece, vediamo che altro, perché l'ho preso a caso prima, vediamo cos'altro ho preso qua, ecco, questo è quello tipo, boh, desertico, no, forse non c'entrano le stagioni, c'entrano più i biomi, tipo gli habitat, diciamo. Però ecco, io li trovo, trovo che sia molto confuso giocare, cioè, giocare su questo lato, per carità bellissima è l'illustrazione, però non si distinguono le caselle piene da quelle vuote, secondo me è molto meglio giocare con questa versione più sombra, diciamo, perché almeno riconosciamo a colpo d'occhio quali sono le caselle piene e quali sono le caselle vuote, quindi giocherò con le planche del giocatore su questo lato. Allora, signori, come funziona questo gioco? Guardate, abbiamo questo mazzo di carte, vedete? Questo mazzo di carte è un po' il cuore del gioco, questo mazzo di carte rappresenta animali e piante, vedete? Abbiamo il Musk Ox, abbiamo il Desert Tortoise, abbiamo l'Atlantic Salt Marsh Snake, abbiamo il Northern Flying Squirrel, sono animali americani, no? Perché il gioco si chiama appunto Keystone, North America. Abbiamo anche delle piante, vedete? La Burberry, la maggior parte sono animali, anche un ragnaccio schifoso, la maggior parte sono animali, ma ci sono per esempio, ecco, vedete, il Montezuma Bold Cypress. Cosa succede nel gioco? Succede che, come funziona il gioco? Funziona che noi mescoliamo questo mazzo, ok? Tra l'altro alcune carte vanno tolte in base al numero di giocatori, ok? Quindi questo noi abbiamo già fatto il mazzo, diciamo, per due giocatori. Quindi mescoliamo allegramente queste carte, ok? E le disponiamo, le mettiamo in un display, va bene? Quindi prepariamo già questo display, eccolo qua. Un display, vedete, di sei carte. E nel proprio turno il giocatore ha due opzioni a sua disposizione, due azioni possibili, ok? La prima azione è prelevare una di quelle sei carte e metterla nella propria plancia, va bene? E il prelevamento funziona secondo la metodologia classica del pagamento di risorse, più risorse man mano che la carta è più a sinistra, diciamo. La prima è sempre gratis, come in Century, avete presente, come anche in Canvas, no? Ecco, i Synergy Token, appunto, queste ghiande, servono principalmente a quello, no? Cioè, questi saranno anche punti vittoria a fine partita. Mi pare un punto vittoria ogni tre, ogni tre Synergy Token. Però, insomma, nel corso della partita li possiamo usare soprattutto, appunto, cioè, se io voglio questa carta, dovrò mettere un Synergy Token su questa e prendere questa, ok? Se io voglio questa carta, dovrò mettere uno lì, uno qua, uno qua, uno qua, e prendere questa, va bene? E, naturalmente, quando prendo una carta dove ci sono sopra dei Synergy Token, mi prendo anche i Synergy Token, no? Quindi, questo è il funzionamento del gioco. Però, appunto, la prima è sempre gratis, no? Quindi, la prima a destra, diciamo, è sempre gratuita e si può prelevare tranquillamente. Una volta prelevata la carta, la si posiziona in una casella del proprio schema, con assoluta libertà. Non c'è nessuna necessità di partire da una riga, di mettere le carte di fianco a quelle già messe. No, no, no. Si possono mettere tranquillamente dovunque, va bene? Però, naturalmente, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo cercare di creare delle, cioè, dobbiamo cercare di creare uno schema, per così dire, che ci dia la maggior quantità possibile di punti, ok? E fra un attimo spiegheremo come si fanno poi i punti, cioè a cosa dobbiamo badare quando disponiamo le nostre carte nello schema, i nostri animali, diciamo, e le nostre piante nello schema. Prima di spiegarvi quello, però, vi dico qual è la seconda possibilità, perché, appunto, la prima possibilità che abbiamo nel nostro turno è, appunto, prendere una di queste carte. La seconda possibilità che abbiamo, anzi, no, oddio, adesso che ci penso, forse sono tre le possibilità, volendo, vabbè, insomma, adesso parliamo della seconda prima. Allora, la seconda possibilità è, invece, attivare una di queste tesserine. Vedete, queste tesserine si chiamano, aspetta che non mi ricordo come si chiamano, vabbè, non importa, queste tesserine, forse bonus, tiles, qualcosa del genere, queste tesserine ci permettono, in un certo senso, di fare delle azioni speciali, no? E ogni volta che noi ne scegliamo una e la attiviamo, poi la giriamo, va bene? E, quindi, per esempio, questa qui ci fa mettere, guardate, questo vuol dire che mettiamo un research token, uno di quei token, su un animale che abbia questo simbolo, vedete, questo tag, vedete, vediamo se, per esempio, ecco, lui, il Northern Flying Squirrel, vedete, ha quel simbolo, ha questo simbolo, quindi se noi attiviamo questo, possiamo mettere un research token su questo, su questa carta, ok? Il research token, altro non fa che aumentare il valore di quella carta, quando poi verrà calcolato il punteggio finale, cioè, in pratica, è come se avessimo una carta in più, diciamo, in quella riga o in quella colonna, quando calcoleremo il punteggio finale. Ancora una volta, aspettate un minuto e vi spiego, appunto, come si devono comporre le plance e come si calcola il punteggio finale. Questo simbolo qua, invece, vuol dire che bisogna scartare due carte dal display pubblico, no? Quindi, ne scartiamo due a caso, se hanno sopra dei research token, li rimettiamo nella riserva e facciamo scorrere. Tutte le volte che vengono prelevate delle carte o che vengono scartate delle carte, semplicemente le facciamo scorrere, non le facciamo scorrere verso destra, così da riempire, naturalmente, i buchi e scopriamo delle nuove carte, va bene? E, appunto, ogni volta che attiviamo uno di questi non facciamo altro che girarlo, no? Girarlo sul lato opposto, ok? Attenzione perché noi, quando attiviamo, quando decidiamo di fare un'azione relativa a questi tasselli, possiamo anche decidere non di attivare un tassello, come abbiamo appena spiegato, no? Questo qui, guardate, ve li spiego tutti, quelli che sono usciti già che ci siamo, quelli che vengono messi a caso, ce ne sono di più, eh, nella scatola. Non tantissimi di più, ce ne saranno, tipo il Dove, ce ne saranno dieci, no? Quindi noi su dieci ne scegliamo cinque a ogni partita, più o meno, adesso non mi ricordo il numero esatto, ma, insomma, ce ne sono un po' di più, ma non moltissimi di più, ok? Ve li spiego tutti già che ci siamo. Guardate, questo fa mettere un Research Token su una carta autunnale, perché le carte hanno anche il simbolo di una stagione. No, adesso non ce n'è neanche una autunnale, giustamente. Questa è estiva, questa è invernale. Sono tutte estive e invernali, non ce n'è neanche una autunnale. Va bene, insomma, comunque mettiamo un Research Token su quello e scattiamo due carte. Allora, questo simbolo, invece, guardate, vuol dire peschiamo tre carte alla cieca dal mazzo. Se vogliamo, ne mettiamo una nella nostra plancia, se no, le mettiamo tutte negli scarti, le altre le mettiamo negli scarti in ogni caso, e questo simbolo vuol dire che, ancora una volta, scartiamo due carte dal display. Questo qua, guardate, ci fa mettere un Research Token su una carta estiva, ok? E ci fa scartare due carte dal display, e invece questo qua ci fa prendere otto Synergy Token, otto ghiande, e scartare tre carte dal display. Va bene, così è come funzionano questi Token. Ehm, attenzione però, come stavo dicendo, noi volendo, nel momento in cui decidiamo di attivare quei Token, possiamo anche non attivarne uno e girarlo, ma possiamo anche attivare tutti quelli che sono girati e rigirarli, ok? Quindi io, per esempio, in una situazione come questa, posso decidere di attivare questo, oppure attivare questo, oppure attivare questo, ok? Oppure posso anche decidere di attivare questi due, rigirandoli, va bene? Allora, questo qui, guardate, perché vedete, sul retro hanno degli altri simboli, no? Questo qui, per esempio, mi dice, questo simbolo vuol dire che posso spostare una carta, posso spostare una carta che ho già disposto nel mio, nella mia plancia, la posso mettere in un'altra posizione, va bene? Normalmente non è possibile spostare le carte, una volta che noi le abbiamo messe sono, come dire, locked in position, cioè sono fisse in quella posizione fino alla fine della partita, però quando attiviamo questa azione possiamo spostare una carta, ok? Questo qui dà semplicemente due ghiande, va bene? Ecco, quando noi facciamo, appunto, decidiamo di attivare, diciamo, il verso, per così dire, di queste tessere, beh, poi le rimettiamo tutte sul recto, no? Le giriamo tutte dalla parte, diciamo, le riattiviamo, per così dire, e dobbiamo anche, attenzione, spostare questo, questo, questo segnalino, vedete questa bella tartarughina? Ecco, questa tartarughina è una delle due condizioni di fine partita, va bene? Prima condizione di fine partita, un giocatore che completa tutta la sua plancia, ok? Seconda condizione di fine partita, questa tartarughina che arriva fino a questo simboletto qua, cioè che finisce il suo tracciato, vedete, la tartarughina parte da un punto diverso in base al numero di giocatori, in due giocatori parte dal 5, qua, ok? Quindi ogni volta che noi rigiriamo, non che attiviamo una tessera, ma che le rigiriamo tutte, diciamo, la tartarughina deve spostarsi verso destra, ok? Questo è un modo per far sì, perché i giocatori a un certo punto, se non vedono mai le carte che stanno cercando nel display, possono cercare di temporeggiare, no? È il più possibile per far sì, diciamo, che queste carte escano, però ecco, non è possibile temporeggiare all'infinito, no? Perché alla fine, voglio dire, anche se non, anche se continui a temporeggiare senza mai riempire la plancia, a un certo punto la partita finirà per via della tartarughina, che arriva fino alla fine del suo percorso, diciamo, questa è un po' l'idea, ok? Terza possibile azione, perché come dicevo c'è anche in realtà una terza possibile azione, che faremo molto raramente, però va la pena, cioè è giusto spiegarla. La terza azione possibile è invece prendere una di queste carte, vedete queste quattro carte? Queste quattro carte sono delle carte jolly, potremmo dire, no? Ce ne sono due per ogni habitat, vedete? Questi sono i simboli degli habitat, ok? Quindi abbiamo, vedete, la foresta, abbiamo il deserto, tipo, vedete? Eccolo qua. Abbiamo la palude, la wetland, come viene chiamata qua, vedete? La palude. E abbiamo l'artic, cioè abbiamo il territorio, diciamo, innevato, ok? Eccolo qua, perfetto. Allora, come funziona il prelevamento di queste tessere jolly? Dobbiamo pagare 10 ghiande, vedete, è anche scritto 10 synergy token, è anche scritto nell'angolino, e a questo punto, queste qua, possiamo metterle appunto dove vogliamo, nella nostra plancia, non possiamo mai averne due dello stesso tipo, quindi non posso, ce ne sono due per tipo, vedete, ma un giocatore non può prenderne due dello stesso tipo, e cosa succede? Che quelle tesserine possiamo, nel momento in cui calcoliamo i punti, assegnare a loro qualunque numero, perché vedete che le carte hanno un numero, vedete? Hanno un numero che va da 1 a 5, va bene? e, attenzione, a questo punto dobbiamo spiegare appunto qual è il criterio che noi dobbiamo utilizzare per costruire il nostro tableau, no? Cioè, cosa ci interessa quando stiamo collocando queste carte nel nostro display? Beh, ci interessa creare degli habitat, dice il regolamento, e cosa vuol dire creare degli habitat? Il più grande possibile creiamo il nostro habitat, il più punti otterremo in fine partita. Allora, concretamente cosa vuol dire? Vuol dire che in questo gioco siamo ricercatori, no? Siamo ricercatori, come si... Siamo etologi, come li chiama il regolamento? Un attimo, vediamo come chiama il regolamento, vediamo un po'. Biologist, ah no, ok, perfetto, siamo semplicemente dei biologist, ok? Siamo dei biologist, guardate vi faccio vedere, working to build an interconnected ecosystem through the careful placement of species, ok? Bene, cosa vuol dire tutto questo concretamente? Vuol dire che il gioco è una specie di sudoku, ok? Detto proprio in soldoni. Cioè noi dobbiamo cercare di creare delle sequenze numeriche, ok? Diciamo concatenate, no? E che abbiano, che contemplino al loro interno animali che vivono nello stesso habitat, va bene? Quindi per esempio, potremmo fare... E questi, queste interconnessioni, queste sequenze numeriche di animali che vivono nello stesso habitat, devono essere disposti in riga oppure in colonna. Possono andare da destra o da sinistra, o anche da sinistra verso destra, non è importante andare da... in un verso preciso, però appunto, l'importante è che siano in riga o in colonna, va bene? Per esempio, non lo so, usiamo le carte che sono uscite per fare... per fare degli esempi random, in realtà non è che si combinino molto queste carte, sono uscite delle carte abbastanza... facciamo degli esempi prendendo delle carte dal mazzo, ecco, così non tocchiamo il display, va bene? Allora, per esempio, guardate, questo Eastern Hellbender, lo state vedendo? Spero che la videocamera riesca a mettere a fuoco, ok? Allora vive nella palude, ed è un 3, va bene? Quindi noi potremmo metterlo qui, per dire... Poi vedete, questo qua, guardate, questo Emperor Goose, vive anche lui nella palude, ed è un 2, vedete? Quindi, se lo metto qui, ho già fatto un habitat, va bene? Questo, vedete, una sequenza di due carte che abbiano un valore numerico, diciamo, consecutivo in questo modo, no? E che vivano nello stesso habitat, beh, abbiamo costruito un habitat, quindi questa coppia farà punti a fine partita, va bene? Vediamo se riusciamo a trovarne delle altre, vedete questo, per esempio, questo Bumblebee, guardate, questo Bumblebee, ha un... Vedete, questo vive in tutti gli habitat, ok? Quindi è molto versatile, diciamo, e vedete, ha un 1, no? Quindi possiamo metterlo qua, ecco qua, adesso il nostro habitat è ancora più, no? valido, diciamo, vediamo se troviamo anche, se trovo anche un... Ecco, per esempio, guardate, la Bold Eagle è un 4, vedete, e anche lei vive in parecchi habitat, tra cui, vedete, la Palude, quindi se la metto qui, perfetto, guardate, questo è un habitat molto, che vale moltissimo, no? È un habitat, vedete, che mi occupa tutta una riga, ok? 1, 2, 3, 4, sequenza numerica conseguente, tutti vivono nello stesso habitat, ok? E attenzione, c'è anche all'interno di questo habitat, habitat una key species, una key, vedete che c'è, il titolo del gioco si riferisce al fatto che ci sono alcune specie animali che sono delle keystone, le chiamano i biologi, cosa vuol dire? Vuol dire che se quelle specie vengono a mancare, ok? e si estinguono per qualche ragione, beh, tutto quell'ecosistema collassa, va bene? Quindi sono delle specie fondamentali, no? Perché servono proprio per tenere in vita tutto l'ecosistema, il bumblebee è una di queste specie, va bene? Cosa vuol dire quando c'è una specie che ha questo simbolo? Vuol dire che quell'habitat varrà doppio, va bene? Allora, il calcolo dell'habitat avviene in questo modo a fine partita, si considerano ogni riga e ogni colonna, ok? E si controlla se in ogni riga e in ogni colonna c'è un qualche habitat, no? E a quel punto si contano le carte dell'habitat, va bene? Quindi per esempio questo vale 4 punti, se non ci fosse quella chiave varrebbe 4 punti, va bene? Ma c'è quella chiave, va bene? Quindi la chiave raddoppia il valore dell'habitat, quindi se io ho costruito questo habitat, in fase di punteggio ragazzi, questo habitat vale non 4 punti ma 8 punti, grazie alla presenza di questa keystone, va bene? E i research token, questi qua, semplicemente aumentano invece di 1 il valore dell'habitat, va bene? E vanno calcolati prima della keystone, quindi possono anche potenzialmente valere per 2. Mettiamo che io nel corso del gioco ho messo un research token sull'Eastern Hall Bender, così, va bene? Ecco, questo habitat a fine partita vale 10, perché dobbiamo calcolare 1, 2, 3, 4, 5, per 2, va bene? 10 punti per questo habitat, ok? Se ho messo un research token anche qua, questo varrà 1, 2, 3, 4, 5, 6, per 2, 12 punti, va bene? Ok? Ci siamo capiti? Così funziona il calcolo dell'habitat, va bene? E chiaramente lo scopo del gioco è crearne quanti più possibili di questi habitat, incrociando le righe e le colonne, ecco perché dico che è una specie di sudoku, no? Per esempio, guardate qua, non lo so, se noi riusciamo a mettere, vediamo un po', se noi riusciamo a mettere, per esempio, se io metto la doll ship qua, guardate, ho creato un habitat anche in questa colonna, vedete? Perché ho un 3, un 4 e vivono tutte e due, vedete? Nella, nell'artico, va bene? Se io riesco a mettere un 5 lì, riesco a farlo ancora meglio, eccolo qua, guardate, se metto qua l'artic wolf, ok? Guardate, in queste condizioni, questa colonna vale 1, 2, 3, 4, 8, perché vedete, l'artic wolf è una keystone, vedete? Vedete la key? Eccola qua, è una keystone, ok? Perfetto, signori, quindi così è come si calcolano, è come si calcolano i punti che faremo a fine partita, va bene? Però a questo punto io già vi sento, no? Già vi sento che vi state chiedendo, ma scusa, ma scusami, ma cosa servono tutti gli altri simboli allora, che ci sono? Abbiamo capito a cosa servono gli habitat, abbiamo capito a cosa servono le keystone, ma per esempio a cosa caspita servono queste, 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 queste qua, servono solo per, allora queste qua possono riferirsi, questi tag symbol, possono riferirsi a degli obiettivi privati, come anche, beh, si riferiscono anche, no? in questo caso, in questo caso, vedete, si riferiscono anche a questo, no? Cioè questo, questa tesserina ci permette di mettere un research token sopra appunto a una specie che abbia quel tag, però attenzione, perché appunto ci sono anche gli obiettivi privati, per esempio le stagioni, vedete che ogni, ogni carta ha anche un simbolo stagione, no? beh, ogni stagione, le stagioni non si, non entrano direttamente nel calcolo dei punti, ma spesso sono collegati agli obiettivi privati, guardate nel gioco c'è questo mazzo, questi sono gli obiettivi privati, lo mescoliamo e ne diamo uno a ogni giocatore, ok? Non si possono scegliere gli obiettivi privati, quello che ti arriva, ti arriva, ok? Quindi ne diamo uno al giocatore 1, ne diamo uno al giocatore 2, gli altri non servono più, possiamo metterli via, vediamo per esempio che obiettivi sono capitati al giocatore 1, Spring Observation, vedete? Allora, il giocatore 1 deve cercare di fare queste, di implementare queste quattro condizioni, vedete, nella sua plancia, cioè devono esserci, vedete, tre animali con tre simboli tag, messi a L in questa posizione, si possono anche ruotare queste forme, va bene? Quindi vediamo un po', qui abbiamo delle tag, abbiamo quella tag, no, ma non riusciremmo mai, non riusciremmo mai, avremmo dovuto mettere almeno un'altra qua per fare la L così, no? Vedete per esempio, questo mettendolo qui, vedete, abbiamo fatto così, e mettendo questo qui avremmo fatto, avremmo fatto questo, no, questo simbolo, dove erano? Erano così, boh, non mi ricordo più, però a quel punto avremmo, vedete, avremmo, no, avremmo rotto l'habitat, no? Quindi è un po' complicato, perché dobbiamo cercare di combinare la necessità di creare l'habitat con la necessità di creare queste, queste forme, no? Poi guardate, questa richiede di avere in questa esatta disposizione, quindi così diagonalmente, due research token, no? Due di questi token, ok? Questa qui, vedete, ecco dove tornano, dove entrano in ballo le stagioni, questa qui, vedete, ci richiede, questa forma richiede di avere tre animali primaverili, per così dire, in fila, no? Allora, vediamo un po', qui ovviamente non ne avremo neanche uno adesso, infatti non abbiamo, cioè non c'è, la primavera non esiste proprio, non è uscito niente, relativamente alla primavera, questo qua invece vuol dire che, vedete, dobbiamo avere in giro per la plancia, in posizioni qualunque, tre animali col punto esclamativo, che sono animali in pericolo di estinzione, per esempio l'Eastern Hellbender, vedete, è un animale in pericolo di estinzione, ha quel, quel, quel punto, quel punto esclamativo, va bene? A seconda di quante di queste, di queste, diciamo fatti specie, noi avremo nella nostra plancia a fine partita, otterremo punti, vedete, in base a questo, in base a questo schemino, quindi se ne abbiamo una otteniamo 5 punti, se ne abbiamo 2-10 punti, 3-16 punti, 4-24 punti, quindi questa può fare una grandissima differenza, dobbiamo fare molta attenzione appunto al nostro obiettivo privato, va bene? Signori, questo è il modo in cui funziona il gioco, direi che abbiamo spiegato praticamente, praticamente tutto, no? Il gioco va avanti così finché, come stavo dicendo prima, non si creano due condizioni, e non si verifica una di queste due condizioni, cioè la tartaruga che arriva fino alla fine del percorso, oppure il giocatore che termina la sua plancia, mi pare che, cioè riempie tutta la sua plancia, mi pare che, vediamo un po', end of game, mi pare che si faccia un altro round, ok? Allora, when any player has filled every space on their player board, or the time track marker has reached zero, you are now in the final round of the game. All players who have yet to go that round, should take their turn, and then the game ends. Ah no, non c'è, non c'è un round ulteriore, semplicemente si finisce in round, quindi se a far scattare la condizione di fine partita, è il primo giocatore, il secondo giocatore deve svolgere il suo turno, ok? Adesso noi ripristiniamo qua la situazione, quindi mettiamo via queste carte, tra l'altro un elemento interessante, naturalmente approfondiremo meglio la questione della tematizzazione del gioco e di tutto ciò che concerne il commento al gioco stesso nel nostro video con l'analisi critica, però ecco vi voglio sottolineare qua che i numeri che hanno gli animali non sono a caso, diciamo, gli animali o le piante, ma corrispondono alla posizione dell'animale nella catena alimentare, quindi se ha appunto un numero basso è in una posizione bassa, se ha un numero alto è in una posizione alta, quindi ovviamente i predatori, i predatori carnivori avranno sempre delle posizioni alte, va bene? Bene signori, direi che a questo punto siamo pronti per cominciare, per cominciare il nostro esempio di gioco, perché è sempre tanto bello spiegare le regole, ma bisogna poi vederle concretizzate per capire se il gioco può effettivamente fare per noi, però ecco, prima di cominciare vi devo presentare i due contendenti, e guardate, allora in pochissimi minuti ho costruito due habitat con i mattoncini della mia collezione, proprio veramente in pochissimi minuti, quindi non pensiate che io vi faccia vedere delle costruzioni pazzesche, però insomma guardate, ho creato questo habitat desertico, guardate, ho messo semplicemente, vedete, dei mattoncini in colore tan, ho cercato di rappresentare un serpente che esce dalla sabbia, però insomma non mi è riuscito benissimo, forse ho lasciato troppi buchi visibili qua, si poteva fare molto meglio, tra l'altro questo è il serpente old style, diciamo, adesso fanno serpenti un po' più, che è più facile, diciamo, far interagire con i mattoncini, ecco, mettiamola così, però insomma, vabbè, interessante, vedete, carino, comunque ho messo degli arbusti, vedete, questi dovrebbero essere in realtà dei flower stem, cioè dei gambi di fiori, tipo, però mettendoli senza fiori, vedete, danno comunque l'idea di arbusti così rinsecchiti, no? Trovo che, no? Sia simpatico, e guardate, dall'altra parte invece ho fatto un piccolo, vedete, ecosystem, un piccolo, un piccolo paesaggio invernale, ci ho messo un bel coniglietto bianco, degli abetini, no? e ho fatto semplicemente dei mucchietti di neve, vedete, ho messo delle, così, delle fogliettine con un po' di neve sopra, ok? Ripeto, li ho fatti veramente in due minuti ciascuno, quindi non, non stiamo parlando di nulla di particolarmente, di particolarmente trascendentale, impegnativo. quindi signore, questa parte, signori, questa partita, sarà il deserto contro, come vogliamo chiamarlo, contro, contro, contro il, la neve, contro l'artico, vabbè, insomma, giocatore 1 contro giocatore 2, ok? E abbiamo deciso d'ufficio che il giocatore, il primo giocatore ovviamente è il giocatore 1, gli abbiamo dato questo bel segnalino primo giocatore, il giocatore 1 comincia con 5 synergy token, il giocatore 2 comincia con 6 synergy token, quindi abbiamo già preparato, le riserve iniziali, signori, è il momento di cominciare la sfida. Allora signori, ricordiamo un po' quali sono gli obiettivi del giocatore 1, perché ovviamente le carte che preleverà saranno anche funzionali a questo, no? Allora dicevamo che deve prelevare tante carte primaverili, e non ce n'è una proprio a vista d'occhio, ok? Quindi quello gli va un po' male, però guardiamo, vediamo un po', deve anche avere tre carte, con il simbolo dell'estinzione, vedete, del pericolo d'estinzione, ce ne sono due, ok? E tra l'altro ci sono anche tre chiavi, queste qua sono tutte chiavi, vedete, quindi bisogna assolutamente prelevare una di quelle carte, no? Sono molto valevoli, sono tutte keystone species quelle là. Non so certo, nessuna è primaverile, nessuna, l'unica ad avere il tag, queste due hanno il tag, queste due hanno il tag, però purtroppo non vanno d'accordo assieme, perché vedete, questo vive solo, il northern flying squirrel vive solo nella foresta, e il sidewinder rattlesnake vive solo nel deserto, quindi niente da fare, non possiamo fare un habitat con loro due. Io prenderei proprio quella più gratis, perché ha un grande valore quella, perché guardate, ha la chiave, e vive in un sacco di habitat, quindi ha, diciamo, una certa flessibilità, no? Quindi io, come prima mossa del deserto, prenderei il northwestern grey wolf, ok? Solo che dobbiamo decidere dove metterlo, no? Allora, ha un 5, ok? Quindi, beh, potremmo metterlo tipo in quest'angolo, potremmo metterlo, ah, scusate, tra l'altro, mi sono dimenticato di spiegare una roba importantissima, attenzione, una regola fondamentale, cioè, che quando noi disponiamo una carta, otteniamo in ricompensa synergy token, cioè ghiande, in base agli habitat uguali, che ci sono di fianco alla carta che posizioniamo, ok? Quindi, se io posiziono questa di fianco a una foresta, prenderò un synergy token, se la posiziono di fianco a una foresta, e ha un deserto, otterrò due synergy token, ok? E se ci sono due deserti, uno qua e uno qua, per dire, se io la metto qua e c'è un deserto qua, un deserto qua, otterrò comunque due synergy token, ok? Questa è una roba molto importante, perché avere synergy token ci rende appunto molto flessibili, poi, nel prendere, nel prelevare le carte dal display, ok? Scusate, è una regola che prima mi sono dimenticato di spiegare. Allora, dove buttiamo sta carta, ragazzi? La mettiamo nell'angolino. Faremo due habitat che scorrono, no? con un 4 qua, con un 4 qua, qui un 3 va bene, sia per questo, sia per questo, giusto? Sì, secondo me sì, la mettiamo in questa posizione, bene. E questa sarà la prima, la prima azione del, del deserto, va bene? Adesso facciamo scorrere le carte, ovviamente, così, e tocca, ecco qua, e tocca alla, alla neve, ok? Allora, vediamo cosa deve fare la neve. Winter Observation, beh, è uguale praticamente, scusate, l'unica differenza, guardate, l'unica differenza è che lui deve puntare, vedete, sul, per il resto è uguale, di solito si differenziano di più, vedete, l'unica differenza è che lui deve puntare più sulle carte invernali, e gli va meglio, direi, perché è pieno di carte invernali, invece, carte, carte primaverili, per il momento non ne sono uscite. Allora, anche lui dovrebbe puntare su una delle keystone, su queste due, e forse è meglio puntare, questa è una carta invernale, potrebbe metterla qua, potrebbe metterla qua e puntare a fare 1, 2, 3, 4, in questa riga. Certo, sapete qual è il problema? Che questo Snowshoe Hair è un po', cioè ha solo un habitat, no? Cioè non è flessibile come il Northwestern Grey Wolf, che vive un po' ovunque, o quasi, però vabbè, insomma, ha comunque un grande valore, è gratuita perché è nella prima posizione, quindi direi che questa sarà la prima mossa, che farà il... Tra l'altro guardate, è proprio perfetto, perché scusate, guardate, guardate che roba, guardate che prima mossa, eh? Guardate che roba, sì, se magari la videocamera mette a fuoco, certo che ste videocamere che non capiscono quando bisogna, vabbè, cioè guardate che roba, eh? Eccola lì, vedete? Ha proprio preso se stesso questo giocatore dalla plancia, va bene? E lo disponiamo appunto qua, in questa posizione. Molto bene, signori, andiamo avanti, procediamo, e adesso, signori, tocca al deserto, allora, come sua seconda mossa, cosa vuole fare il deserto? Vediamo un po', beh, logica vorrebbe cercare di prendere anche quella chiave, però bisogna, eh, bisogna fare attenzione, perché quel 5 è dove, caspita, lo mettiamo. Allora, se qui vogliamo fare un habitat, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 5, dobbiamo metterlo qua, dobbiamo metterlo in questo angolino qua, cioè, se vogliamo costruire una tabella il più possibile efficace, dovremmo metterlo lì. E, beh, ha comunque anche lo, il, il, è anche in via di estinzione, quindi forse è una buona idea prenderlo, quindi lo prenderei. Prendiamo questo American Alligator, e lo mettiamo in questo angolino. Come vi dicevo all'inizio, non c'è nessuna regola che ci imponga di mettere carte in determinate posizioni, piuttosto che in altre, ok? Possiamo metterle dove vogliamo, nella nostra plancia. Molto bene, tocca al, alla neve, tocca alla lepre, chiamiamola la lepre, ok? Cosa vuole fare la lepre a questo punto? Allora, la lepre deve cercare di continuare a costruire questo suo habitat, per esempio, guardate questo qui, potrebbe essere una buona, una bella idea, ok? Allora, mi pare che Keystone adesso non ce ne siano. Questo ha il tag, tra l'altro, eh, se lo mette, vediamo un po', potremmo metterlo qua, tipo, no? Oppure anche qua, ok? Forse è meglio qua, ci dà più flessibilità nel posizionare poi altri tag in giro per il mondo. Certo, anche quello è sempre solo nell'Artico, no? Bisognerebbe avere un po' più di flessibilità, però vabbè. Ok, vuole prendere questo Snowy Hall, quindi per prendere questo Snowy Hall, deve fare così, guardate, deve mettere un Synergy Token qua, un Synergy Token qua, nel frattempo ha spostato tutto, è un Synergy Token qua, molto bene, prende questo Snowy Hall, e lo mettiamo qua, lo mettiamo in questa posizione, molto bene, perfetto, adesso, signori, tocca al deserto, allora, vediamo un po', c'è qualcosa che ci piace a questo punto nel display? Allora, vediamo un po', questo qua, ma la primavera ragazzi, cioè la primavera non esce mai, sto povero disperato che ha bisogno di carte primaverili, come fa? Niente, vabbè, pazienza, allora, vediamo un po', il primo ha un tag, perché anche lui deve mettere il tag con questa forma qua, e vediamo, vive nel deserto, però, allora, se lo mettiamo qua, va bene per lui, ma non va bene per lui, sarebbe meglio un 2 che vive nella palude e in qualche altro posto, non ce n'è neanche uno, però, se no potremmo mettere sto 3 qua, che ha anche il simbolo, no, mettendo quel 3 qua, ha anche il simbolo dell'animale in via di estinzione, quell'1 non ci serve a un piffero, quell'1 lì, cheppur avrebbe il tag, quel 2, 5, 4, 3, 2, potremmo mettere qua quel 2, 2, 3, 4, 5, no, anche qua vogliamo che ci sia la palude, ci siamo un po' infognati, con, mettendo giusto American Alligator, vabbè, prendiamo quel 3 ragazzi, prendiamo quel 3, facciamo così, mettiamo questo qua, e mettiamo questo qua, e prendiamo sto 3, ci prendiamo questo Synergy Token, e lo mettiamo qua, direi, lo mettiamo in questa, in questa posizione, molto bene, tocca al, alla lepre, allora signori, la lepre, mettiamo un po', beh, a questo punto la lepre vuole andare avanti, questo, solo che forse non ha niente, vero? non c'è niente che le permetta di proseguire in quella direzione lì, e, guardate, mettendo, potrebbe prendere questo che ha l'abitat invernale, perché ormai lei si concentra sull'abitat invernale a questo punto, ma dove lo mette ragazzi? Potrebbe metterlo qua, e fare 2, 3, 4, e qui magari mettere anche un 5, potrebbe mettere quel 2 lì, però, 2, 3, 4, 2, 3, qua, sì, 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 questa non è una brutta idea, facciamo così, guardate, 1, 2, e 3, e mettiamo questo 2 qua, ok? In questo modo, questo Long Tailed Weasel, lì, in quella posizione, molto bene, ecco, vedete, io in questo momento però, ho solo badato al, all'abitat, alla costruzione degli habitat, ma non sono stato tanto attento, cioè, è difficile riuscire a fare tutto ovviamente, no? Perché noi vorremmo fare uno schema perfetto, però dobbiamo anche stare attenti appunto al nostro, ai nostri obiettivi segreti, ok? Va bene, ma adesso tocca al deserto, allora, cosa vuole fare il deserto? Intanto sappiamo, queste carte forse diventano un minimo appetitose, no? Perché hanno tutte queste ghiande sopra, e hanno anche quelle tag, però purtroppo non ci servono più di tanto, eh, vedete, anche qua è difficile ragazzi, allora, quell'uno, quel due col deserto, cioè, dove lo mettiamo qua il deserto ragazzi? O costruiamo un altro habitat, cioè, boh, lo potremmo mettere qua, ma se lo mettiamo qua, rispettiamo quel habitat, ma non questo, no? Ah, cari amici, cari amici, poi tra l'altro carte primaverili non ce ne sono, sapete cosa vi dico? Che è il momento forse di attivare uno di quei token, eh, per il giocatore, del deserto, per esempio questo che permette di pescare tre carte, no? Attiviamo questo, ok? Che permette di pescare tre carte alla cieca, uno, due, e tre, molto bene, eccole qua le tre carte, e orca miseria abbiamo pescato il ragno, uuuuuh, allora, non guardiamo questo ragno, vediamo solo, allora, però il ragno è in primavera ragazzi, è in primavera, uuuuh, due carte primaverili, guardate, questa qua tra l'altro va nella palude e ha anche il tag, questa ci piace molto, allora ragno, non nascondiamo, lo buttiamo via per sempre, e, ehm, questa qua, la swallow-tailed kite, vedete, ha un tre, ha la palude, ragazzi, lo possiamo mettere qua, lo mettiamo in questa posizione, e vedete, riusciamo a costruire qui un bellissimo habitat di palude, e queste carte le mettiamo negli scarti, però poi attenzione, dobbiamo anche scartare due di queste carte, e a questo punto cosa scartiamo ragazzi? Scartiamo le prime due? O le lasciamo là? Scartiamo le prime due, dai, così togliamo anche tutti questi token, che magari se li prende il nostro avversario, li rimettiamo nella riserva, via, e queste due se ne vanno molto bene, e facciamo scorrere, e vediamo adesso cosa esce, perché adesso appunto tocca alla lepre, una keystone è uscita, solo che lei non è neanche una ghianda, non la può prendere ragazzi, non avendo neanche una ghianda, attenzione, è la sua scelta, cioè o prende sto American Black Bear, ok, oppure attiva uno di quei, uno di quei segnalini, cioè non avendo, non avendo ghiande, non è che c'è molta più, cioè quell'American Black Bear, ha senso? Ha senso prendere quell'American Black Bear? È un 4, è una carta estiva? No, non ha tra l'altro l'habitat invernale, che a noi piace moltissimo, quindi direi di no, non ha senso prendere quell'American Black Bear, quindi ragazzi, cosa facciamo? Mettiamo, no, non possiamo mettere, vediamo un po', beh, potremmo mettere, allora, o mettiamo un research token sullo Snowy Hole, attivando questo, oppure semplicemente ci prendiamo 8 ghiande, sapete che forse è la cosa migliore? Prenderci 8 ghiande? Cosa dite? Ci prendiamo 8 ghiande? Ma sì, attiviamo questo, ci prendiamo 8 ghiande, così almeno nella prossima, nella prossima mossa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allora notate che le ghiande hanno il 3 dalla parte, ma noi le consideriamo sempre che valgano 1, questa è stata una scelta dissennata, tra l'altro mettere il 3 dall'altra parte, cioè se vuoi fare delle ghiande che valgano 3, devi farle più grandi, non devi mettere il 3 dall'altra parte, ma vabbè, adesso di questo parleremo ancora una volta meglio, quando nella nostra, nella nostra analisi critica, va bene, quindi abbiamo fatto quel, quel, quell'azione, però dobbiamo anche scartare 3 carte, ragazzi, cosa facciamo? Scartiamo le prime 3? Sapete che il nostro avversario può prendersi questa chiave, con le sue 4 ghiande, quindi scartiamo sicuramente questa chiave, ok? Questa chiave la scartiamo, e scartiamo gli altri, i primi due qua, forse dai, 1 e 2, molto bene, così, e facciamo scorrere le carte, molto bene, e adesso signori, tocca al deserto, ok? Cosa vuole fare il deserto? Cosa vuole fare il serpente? Guardate, è uscita una bellissima chiave lì, solo che non è che si, non va tanto d'accordo, eh, con, con gli habitat che sta costruendo il nostro amico qua, quell'uno vive in palude, quel northern green frog, però, un 1 non ci serve a noi qua, stiamo costruendo la nostra, il nostro habitat in un modo tale che l'1 non ci serve, sapete che non ci serve un piffero a noi di queste carte qua, cari amici, quindi forse anche noi, anche a noi converrebbe attivare, attivare una di quelle tesserine, però, insomma, iniziare già a temporeggiare dopo così, dopo così poco, mh, però d'altra parte, ragazzi, cioè, mh, queste carte non ci servono veramente a nulla, cioè, niente, ma niente, ragazzi, attiviamo questa, attiviamo questa, mettiamo un research token sopra un tag, quindi la mettiamo qua, è l'unica possibilità, è l'unico posto dove possiamo metterlo, e scartiamo due carte, scartiamo questa chiave, tac, e poi scartiamo questa qui, tac, via, perfetto, e abbiamo quindi attivato anche questo, molto bene, e, uh, ma c'è un'altra chiave tra l'altro lì, mmm, molto bene, uh, e anche il grizzly bear è una keystone, allora, ragazzi, tocca alla lepre, mmm, cosa vuole fare a questo punto la leprottina, beh, la leprottina ha delle carte qui interessanti, eh, eh, e il Vancouver Island Marmot, per esempio, è un uno, che qui starebbe da dio, ragazzi, certo, sarebbe meglio se fosse, ma questo sta ancora meglio, però forse, eh, perché quello ha anche la cartellina, però la cartellina bisognerebbe metterla attorno a questa, non riusciamo a mettere una cartellina attorno a quella, qui c'è un altro qua, no, perché con quel quattro lì, no, purtroppo non riusciamo a mettere cartelline di fianco a quella, e non riusciamo a prendere una key, per esempio, questa qua è una key, questo qua è una key, ragazzi, questo ci piace tantissimo, scusate, dobbiamo mettere questo, certo, spendiamo l'ira di dio, eh, però ne va la pena, prendi, preleviamo questa carta, allora, un token qua, 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 e prendiamo il grizzly, il grizzly bear, ok, che è una keystone, e vive nella, nella, nella zona artica, lo mettiamo qua, attenzione, abbiamo fatto scattare la vicinanza dell'habitat, quindi prendiamo, una, eh, synergy token, no, vedete, abbiamo la vicinanza dei due habitat, molto bene, signori, adesso tocca, al, eh, al giocatore, del, al serpente, al deserto, eh, e cosa vuole fare, amici, il serpente, eh, vorrebbe, vorrebbe tantissimissimo, allora, queste due sono carte primaverili, però vedete che nessuna, si sta infognando troppo, con degli habitat troppo specifici, lui, secondo me non finirà bene per lui, allora, perché qua bisognebbe fare, cinque, quattro, tre, due, giusto? Bisognebbe fare così, no? e vediamo un po', questo uno con la chiave, non riusciamo a metterlo da nessuna parte, eh, potremmo mettere questo, se mettiamo qua, certo, però poi, ma qui comunque, cioè, se qui mettiamo un quattro, allora, tre, quattro, cinque, tre, due, uno, se qui mettiamo un quattro, sì, dovremmo mettere questo qua, certo, finiamo tutti, vabbè, mettiamolo, uno, due, tre, e quattro, e ci prendiamo questo synergy token, e mettiamo questa Canada Lynx, che è anche una specie in via di estinzione, e la mettiamo qua, così, e facciamo scattare, guardate, prendiamo due ghiande, perché facciamo scattare, vedete, sia l'habitat, sia la zona artica, sia anche la foresta, quindi prendiamo due ghiande, uno e due, perfetto, molto bene, tocca al, eh, tocca alla lepre, allora, cosa vuole fare di bello la lepre? Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', cosa c'è qua? C'è questo kangaroo rat, che è una keystone, che sarebbe bellissimo prendere, però è un uno che va nel deserto, dove cacchio lo mettiamo? Beh no, ma aspetta, guardate, lo possiamo mettere vicino a lei, in realtà, lo possiamo mettere, cinque, quattro, tre, orca miseria, sarebbe meglio, però qui, a questo punto, se noi qui mettiamo un tre, qui dobbiamo mettere un uno, sì, 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 ragazzi, prendiamolo, 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 allora, uno, due, tre, e prendiamo questo desert kangaroo rat, preleviamo quelle due ghiande, e lo mettiamo qua, lo mettiamo così, e facciamo una sinergia, quindi prendiamo una ghianda, perfetto, perché abbiamo i due deserti, vedete, di fianco, bene, 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 così abbiamo un'altra, abbiamo un'altra keystone, molto bene, adesso, signori, tocca al, al deserto, al serpente, allora, cosa vuole fare il serpente, vediamo un po', allora, questo tre potrebbe andare bene qui, per esempio, sapete che sono molto indeciso, perché dovremmo anche cercare, di, no, per esempio questo quattro, qui andrebbe bene, cavolo, sto quattro, solo che non ha l'habitat giusto qua, cioè, ci siamo veramente infognati, questo vive nella palude, però è un tre, ce l'abbiamo già il tre, caspite, rincola, non abbiamo abbastanza gente che vive nella palude, in questo display, ok, niente, oppure potremmo quel quattro lì, metterlo qua, però staremo un po' disperdendo le, 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 le cose, le, le tabelline lì, quattro, vediamo un po', e allora, tre, due, uno, quattro, è un casino qui, se mettiamo qui il quattro, cioè qui bisogna mettere per forza un tre, ma il tre c'è già qua, quel quattro lì potremmo metterlo qua, eh, questo gioco può portare a un po' di analisis paralisis, eh, in alcuni, in alcuni momenti, bisogna riflettere approfonditamente ragazzi, ma si dai, mettiamo giusto musk ox, quindi mettiamo due ghiande qua, ci prendiamo queste ghiande, ups, uno, due, e tre, e mettiamo sto musk ox qua, e prendiamo una ghianda perché abbiamo la sinergia dei due habitat, bene, adesso signori, tocca alla lepre, allora, vediamo un po', la lepre cosa vuole combinare di bello? Allora, 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 allora ragazzi, come, come la risolviamo qua? Sto uno qui potrebbe andare, vediamo, è una specie in via di estinzione, sì, 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 anche quest'uno tra l'altro potrebbe andare qua, cosa è meglio? è meglio quella con la tag? Quella con la tag, bisogna metterla qua vicino, però, però se mettiamo la tag, o è meglio quella in via di estinzione? Vabbè, prendiamo la prima, dai, che è anche gratis, ci prendiamo tutte ste belle ghiande, e mettiamo sto bel, sta bella bar motta, la mettiamo qui, ok, e prendiamo una ghianda perché abbiamo fatto la sinergia dell'habitat, molto bene, bene signori, a questo punto tocca al, al deserto, che guardate, ha tirato fuori un 5, che è una keystone, eh ragazzi, là in fondo, quel polar bear, solo che non sappiamo bene dove schiaffarlo, no, non ci serve a nulla direi, non ci serve a nulla ragazzi, questa qui sarebbe una carta primaverile, ma un 1 non ci serve a niente, non ci serve assolutamente a niente, sapete che è veramente antipatica questa situazione, abbiamo qualcuno di estivo? Sì, no, perché vedete, là possiamo mettere un, facciamo quello ragazzi, il giocatore del deserto fa questo, metterà un research token, o su questo, o su questo, dove lo mettiamo? Su questo, su questo qua, sì, va bene, su questo, e poi deve scartare due carte, ok, scartiamo la keystone, così quell'altro non se lo prende, e poi scartiamo anche questa, così non si prende neanche tutti, tutti questi punti, molto bene, perfetto, a questo punto signori, tocca al, tocca al, alla lepre, cosa vuole fare la lepre amici? Allora è uscita un'altra keystone, vedete, eccola qua, è l'American Bison, e ha un bel 4, e vive nella foresta e nel deserto, ci serve a qualcosa? Direi di no, così a naso, direi di no, è anche via distinzione però, ce le ha un po' tutte, diciamo, però in realtà, guardate, noi qui abbiamo un 5, scusate, possiamo metterlo di fianco, di fianco a questo, no? Se noi lo mettiamo qua, no, non riusciamo a fare l'1, non riusciamo a fare, cioè un habitat intero qua, potremmo metterlo qua, potremmo metterlo lì, lì poi mettiamo un 3, giusto? sì 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 sì, guardate che non è, certo, spendiamo un sacco di soldi, per così dire, ma va bene, 1, 2, 3, 4, 5, e mettiamo l'American Bison qua, e prendiamo un, una ghianda, perché abbiamo fatto la sinergia tra gli habitat, perfetto signori, oh, è uscito un altro, oh, ma quello lì è bellissimo, ragazzi, questo è bellissimo, è primavera, palude, keystone, ce le ha tutte, questo mangrove tree crab, ok? Quindi ci piace tantissimo, quindi il deserto non ha dubbi, spenderà, ce la fa, vero? Sì, dovrebbe farcela, spenderà tutti i suoi token, 1, 2, 3, 4, e 5, per prendersi questo, ragazzi, e lo mettiamo, orca miseria però, così abbiamo, vabbè non importa, è troppo bello per non metterlo, lo mettiamo lo stesso qua, e vabbè pazienza, insomma, qui l'habitat non sarà, non arriverà fino al 2, avrà solo queste tre caselle, però vabbè ci piace, e prendiamo una ghianda per la sinergia, molto molto bene, ci piace, ci piace, abbiamo messo due primaveri di fianco, dobbiamo mettere una primavera anche qua, è indispensabile mettere qua una primavera, deve esserci un 4 primaverile che vive in palude, sarà molto complicato, vediamo, questo per esempio è un 4 che vive in palude, ma non è primaverile, vabbè peccato, va bene, anche questo, guardate che bello, questo qua, con il 2 è bellissimo, questo possiamo metterlo qua, tipo, vediamo, no, perché non va bene con questo, porca miseria, va bene, tocca al, dobbiamo differenziare, distanziarne un po' ste planche, se no magari ci si confonde, allora, tocca alla lepre, ragazzi, cosa vuole fare la lepre? Allora, c'è qualcosa che gli piace qua, per esempio, sto 5, non c'è un 3 che viva nei ghiacci, che abbia un inverno, questo è un 3 che ha un inverno, ma non vive nei ghiacci, sto, sto maledetto, allora, vediamo un po', se no potremmo mettere quel 3 lì, però, guardate che se quel 3 lì lo possiamo mettere tranquillamente qua, proprio, ma proprio sciallo lì lo mettiamo, e va bene sia per questo, sia per questo, e no, in realtà no, no, è meglio che sia nel bosco, ci serve un bosco, quel 3 lì è nel bosco, quel 3 lì lo mettiamo lì, e va bene sia per di qua, sia per di là, ragazzi, boh, sì, non è che abbia chissà che altri valori interessanti, però intanto ci sta bene, quindi questo Rocky Mountain Elk, ok, lo mettiamo qua, ragazzi, e guardate, otteniamo 1, 2, 3, 4 ghiande, addirittura, abbiamo fatto una sinergia pazzesca, 1, 2, 3, 4, siamo ricchissimi, possiamo prendere un jolly dopo, quindi forse potrebbe essere una bella idea prendere un jolly, allora signori, molto bene, adesso però tocca al deserto, allora cosa vuole fare il deserto, vediamo un po', il deserto ha bisogno di un 4 che viva nella palude e che sia primaverile, non ce l'abbiamo, ha bisogno, vediamo un po', di, allora questo 2 qui andrebbe bene qui, ma non può prenderlo, ha solo una ghianda, quindi bisogna anche tenere presente quello, che ha solo una ghianda, quindi o prende il white tail deer, ok, che è un 3 che vive nella palude, oppure prende il golden eagle, che è un 5, ma il 5 ragazzi, non ci serve, ma non ci serve neanche il 3 in realtà, cosa ci serve il 3? Cioè dovremmo metterlo qua tipo, ma non si combina né con lui né con lui, quindi no, non ci piacciono nessuno di due, ma non possiamo neanche fare quello ragazzi, tra l'altro, perché non abbiamo neanche una carta autunnale, scusate, sapete che in questo momento in realtà ho un dubbio, io a questo punto posso fare, a parte che aspetta, io potrei attivare tutto il resto ragazzi, è un po' uno spreco eh, perché allora, qui sposterei una carta, e non credo ci serva a spostare una carta, questo qui vuol dire prendere 3 carte dagli scarti, ed eventualmente farne una, questo vuol dire prendere 2 ghiande, questo vuol dire mettere un research token sopra un jolly, questo è il simbolo del jolly, ma jolly non ne abbiamo, non ne abbiamo, però almeno prenderei 2 ghiande, mi direte voi, vabbè dai, facciamo questa roba qui, cioè attiviamo tutte le carte, diciamo che sono state già girate, ok? Allora questa non ci interessa, non ci interessa, non vogliamo spostare carte, questa ci richiede di pescare 3 carte dagli scarti, le prime 3, 1, 2, 3, e se vogliamo ne facciamo una, allora ha senso per noi fare una di queste carte? Questo 1? No. Questo 5? Questo 1? Sapete che non ha senso farne nessuna, è un po' uno spreco però così, questo sarebbe una chi, avrebbe la chiave questo qua, però è un 5, dove caspita lo sbatto il 5, ho già messo 2 5, cioè no, no, non ha, non ha senso ragazzi, no, no, non ha, no, non facciamo nessuna di queste 3 carte, niente, via, è un po' uno spreco eh, però se non altro vabbè, l'unica roba che facciamo è prendere 2 ghiande a sto punto, ok? Prendiamo 2 ghiande, bah è stata una mossa un po' stupida forse, prendiamo 2 ghiande, e poi questo non facciamo niente, perché ci richiede di mettere un research token su un jolly, ma non ne abbiamo, la tartarughina avanza, ok? La tartarughina passa al numero 4, va bene, mossa sprecata eh, mossa assolutamente sprecata, tocca al, ehm, alla lepre, allora, cosa vuole fare la lepre amici? Allora, vediamo un po', la lepre, com'è qua la situa? La lepre, vediamo un po', allora, qui serve un 3, vediamo un po', qui servono un 3 e un 4, sapete che questo, per esempio, qua, andrebbe molto bene, no? Tranquillamente proprio, forse, anzi sì, perché forse poi riusciamo, cioè, il 4, come si può dire, il, il, la sequenza invernale, possiamo farla anche in quella direzione, non necessariamente dobbiamo farla qui, no? quindi sì, quasi quasi prendiamo, prendiamo il Torquay Voltor, quindi mettiamo un token qua, un token qua, un token qua, ci prendiamo questi due token, e, eh, facciamo un Torquay Voltor, ragazzi, e lo mettiamo qua, e facciamo anche, prendiamo anche una ghianda, per via della sinergia, eh, con, con, l'habitat, ok? Perfetto, signori, adesso tocca al, eh, deserto, allora, il deserto, hm, il deserto, vediamo un po', beh, questa ragazzi, è solo che non può prendere una ghiande, ragazzi, il deserto, è disperato perché non ha ghiande, perché questa è una keystone, vedete, e forse gli andrebbe anche molto bene a lui, gli andrebbe benissimo da mettere qua, qui sarebbe perfetto, solo che non ha ghiande per prenderlo, porca miseria, ahhh, e, mh, può prendere solo una di, di, di quelle là, allora, ci sono, concentriamoci su queste, su queste cavolo di cartelline, no? Io ho già qua una cartellina, ho già qua una cartellina, quel due, quel due, se io lo metto qua, eh, ma non, non mi combina con nessun habitat, porca miseria, quell'uno, ahhh, ci siamo infognati qua con un, quel tre, quel tre che ha anche la palude, niente da fare ragazzi, il, si è incagliato, il deserto si è incagliato, niente da fare, allora, o, attiva di nuovo una di queste, di quelle tesserine là, si prende le otto ghiande, e butta via quel coyote, prima che lo prenda quell'altro, eh, facciamo quello ragazzi, prendiamo otto ghiande, così da avere un minimo di, di libertà di movimento nel prossimo turno, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ok, otto ghiande, e scartiamo tre carte, allora, sicuramente il coyote, e poi scartiamo, le prime, le prime due qua, uno, e due, perfetto, e le scartiamo, molto bene, molto bene, e a questo punto, signori, tocca al, tocca alla lepre, la lepre aveva in mente, di, eh, prendere, eh, il jolly, no? Però vediamo se in tutte queste carte che sono uscite, c'è qualcosa che ha in realtà più senso, mh, che ha in realtà più senso prendere, intanto è uscita una, una, una chiave qua, il black tailed prairie dog, eh, solo che è un uno che va nel deserto, dove, caspita, lo mettiamo ragazzi qua, no, non serve a niente, uno che va nel deserto, cioè proprio zero, eh, no, 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 allora, sapete che forse prendiamo il jolly, se no vediamo un po' le cartelline, allora questa cartellina qua, se insommetterla da qualche parte, no, questa cartellina qua, se insommette, no, perché il deserto non ci piace a noi, quindi no, non ha nessun senso, niente da fare, sapete cosa facciamo? Prendiamo il jolly, ok? Prendiamo il jolly, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, rimaniamo solo con una ghianda, e ci prendiamo il jolly artico, ovviamente, ok? E guardate, ci sarebbe bene sia qui, sia qui, dove lo mettiamo? Mettiamolo qua, ok? Lo mettiamo qua, e prendiamo due ghiande, no? Perché facciamo queste due sinergie, molto bene, molto bene, adesso questo vale tranquillamente, tre, e nella riga può valere qualunque numero, no? Quindi possiamo assegnargli qualunque tipo di valore, abbiamo fatto un habitat che vale moltissimo qua, perché guardate, vale uno, due, tre, quattro, per due, otto, per tre, dodici, ok? Quindi vale dodici, e se mettiamo dei research token, lo riusciremo a far valere ancora di più, ok? Bene, molto bene, molto bene, tocca al deserto, allora, il deserto, ha senso che si prenda quell'uno? Nel frattempo è venuto fuori un po' di sole, spero non mi dia troppa noia, tutti questi raggi di sole sul tavolo, dovrei chiudere forse quella finestra, vabbè, ma spero insomma non mi dia troppa noia, allora, quella chiave, ha senso prenderla? No, direi di no, perché l'uno non sappiamo dove, abbiamo fatto uno schema che proprio gli uni non li accetta, quindi no, in realtà non ha nessun senso prendere quello, allora, vediamo un po', questa qua è una carta primaverile, questa qua va nella palude, avrebbe anche il tag, questa ha il tag, ragazzi, non me ne faccio una ragione qua, veramente, cioè, forse prendiamo anche noi il jolly, e lo mettiamo qua, così da fare almeno la sequenza delle carte primaveri, no, non ci va bene neanche quello, perché se mettiamo qua la palude, poi non abbiamo fatto la sequenza giusta, la palude è collegata all'autunno, non è collegata alla primavera, ma porca miseria, però sapete che forse no, niente da fare, neanche questo tre non va bene qua, ma siamo veramente messi male, ragazzi, cioè, potremmo mettere sto due qua, sto due qua andrebbe anche bene forse, no, certo gli manca, no, non andrebbe bene, perché sarebbe meglio se avesse anche il coso, mettendo questo qui, ci siamo vincolati in questa riga all'habitat invernale, mamma mia ragazzi, non c'è verso, niente, allora noi attiviamo questo qua, attiviamo questo qua, cioè peschiamo tre carte dal mazzo, vediamo se ci va bene ragazzi, vediamo se ci va bene, allora una bella mountain goat, un bel woodland caribou, e un bel ringed seal, beh, 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 per esempio, beh ragazzi, questa è una chiave, il woodland caribou è una keystone, e se lo mettiamo qui ci va benissimo, eh ragazzi, tic, no, ci piacerebbe qua, ok, qua ci piacerebbe, ci piacerebbe anche qua ragazzi, tic, eh sì, ci piacerebbe molto, andrebbe d'accordo con entrambi, eh ragazzi, eh sì, sì 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 sì, quindi mettiamo questa carta qua, ragazzi, queste le scartiamo, ok, così, a questo punto amici, prendiamo allora un, un, una ghianda, due ghiande, tre ghiande, ottimo, 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 uno, due, tre ghiande, perfetto, siamo molto ricchi, molto bene, e a questo punto, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo scartare due carte, allora scartiamo questo qui che ha la chiave, scartiamo questo qui, che è pieno di, che è pieno di, di, di ghiande sopra, molto bene, e questo signori è stata la giocata, della, del, eh, del deserto, adesso tocca alla lepre, mmm, allora, cosa vuole fare della sua vita? La lepre, allora, 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 vediamo un po', la lepre vuole, mmm, cosa vuole ragazzi? La lepre, allora, vediamo un po', vediamo un po', eh, mmm, allora, questo tre, la, no, non va bene, perché serve l'inverno, ragazzi, non c'è l'inverno da nessuna parte, e a noi l'inverno serve come il pane qua, cioè, proprio, senza inverno siamo disperati, ok, quindi, quindi niente, quindi niente, quindi forse, sapete cosa facciamo? Attiviamo questo, cioè mettiamo un research token sopra questa cartellina, ok, e scartiamo due carte, e scartiamo questa qua che ha la chiave, e scartiamo, boh, questo qua, ok, via, molto bene, e questo è stato il turno del, 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 della, della lepre, scusate, mancava la parola, allora, signori, tocca di nuovo al deserto, mmm, allora, cioè qua è uscito qualcosa di interessante, qua, di degno, questo tre, per esempio, che vive nella palude, non ci piace a noi la palude, sì, ma quello lì non ci piace, però, questo due forse ci piace, questo due, sì, questo due ci piace, guardate, qui andrebbe molto bene questo due, perché andrebbe bene sia per questo, sia per quello, certo, non è che abbia dei simboli che ci aiutano molto, vediamo un posto qua, che ha la cartellina, eh, vabbè, ma non, non ci va bene da nessuna parte, neanche quello, caspite, runcola, eh, vabbè, niente, prendiamo l'Emperor Goose, spendiamo un sacco di soldi, uno, due, tre, quattro, cinque, prendiamo l'Emperor Goose, e la mettiamo qua, e prendiamo una ghianda, grazie alla sinergia con l'Habitat, va bene, allora, facciamo fare un ultimo turno, direi, alla, alla, alla lepre, e poi possiamo anche chiudere, insomma, possiamo anche non arrivare alla fine, alla fine della partita, no, sapete che questo è bellissimo? Questo è bellissimo, ragazzi, eh sì, eh, mettendo questo qua, ci avviciniamo all'obiettivo della, la, allora, l'inverno l'abbiamo fatto, l'inverno l'abbiamo fatto, eh, tre, col punto esclamativo, uno, due, tre, ce l'abbiamo, abbiamo fatto anche questo, eh, dobbiamo fare questo e questo, ok, eh, eh sì, ragazzi, vogliamo assolutamente questa qua, vogliamo assolutamente questa, qui, uh, cacchio, non riusciamo a prenderla, porca miseria, abbiamo solamente tre, ah, che fastidio, cioè, quella lì era perfetta, quella doll ship, mmm, sgrunta, ahhh, allora, come, come potremmo fare, come la risolviamo, ragazzi, come la risolviamo, mmm, boh, attiviamo una roba di quelle là, abbiamo una carta autunnale, abbiamo una carta estiva, guardate, lui è estivo, quindi volendo possiamo mettere, il, il, quindi forse sì, forse attiviamo, attiviamo questa qua, attiviamo questa, ragazzi, attiviamo questa, e, eh, scartiamo due carte, allora, mettiamo un research token, eh, su una carta estiva, cioè, su di lui, e scartiamo due carte, e scartiamo queste due, ragazzi, e speriamo di riuscire poi, a permetterci, eh, 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 è riuscire a prendere questa, se il nostro avversario non fa disastri, se non se la prende lui, se non, sapete che potrebbe prendersela lui, in realtà, allora, adesso, come la situa, è uscita un'altra chi, eh, però è un 5, qui non riusciamo a mettere un 5, da nessuna parte, ragazzi, in realtà sto 3, guardate che non sarebbe male lì, sto 3 qua, guardate che, eh, qui non sarebbe affatto male, ragazzi, anzi, aiuterebbe, beh, certo, scusate, aiuterebbe anche, anche, anche il deserto, vedete, purtroppo, quella Dolce Pli andava benissimo lì, ma va benissimo anche a lui qua, perché può cercare poi anche lui, deve fare la forma L, no, della, della cartellina, quindi qui andrebbe molto bene, eh, sì, cari amici, vabbè, ma ci fermiamo qui, eh, ci fermiamo qui, direi che avete capito come funziona, come funziona questo gioco, il gioco prosegue, vedete, non manca moltissimo in realtà alla fine, no, si prosegue finché, ecco, in tutte le partite che ho fatto io, non è mai scattato, non è mai scattata questa condizione di fine, ok, eh, capisco che ci sia, perché appunto serve, se no, i giocatori continuano a temporeggiare, no, se alla fine, siccome alla fine è tipo quando ti manca solo una carta, vuoi proprio quella lì giusta, che abbia 80 condizioni diverse, cioè che sia tipo dell'inverno, che viva nel deserto, che sia, che abbia la cartellina, che abbia il numero 4, cioè, siccome non, difficilmente la troverai, il tuo istinto è continuare a far scorrere le carte, sperando che con una botta di fortuna ti esca quella perfetta, no, di solito scatta questo meccanismo, quindi, ha senso che ci sia quel timer, diciamo, se no appunto si temporeggia, si temporeggia troppo, però ecco, devo dire che in tutte le partite che ho fatto io, la partita è sempre finita, quando uno ha finito, ha concluso, diciamo, ha riempito la sua plancia, ok, e il calcolo finale dei punti è un po' laborioso, perché bisogna guardare ogni riga e ogni colonna, ok, quindi si parte, no, per esempio dalla colonna 1, colonna 2, colonna 3, colonna 4, si calcolano i punti per ogni colonna, riga 1, riga 2, riga 3, riga 4, si calcolano i punti per ogni riga, e poi si calcolano, si aggiungono gli obiettivi segreti, e si fa un punto ogni tre ghiande che si hanno a fine partita, va bene, attenzione, per ogni riga e per ogni colonna vale solamente un habitat, non possiamo, tipo se abbiamo 1, 2, 1, 2, dobbiamo scegliere uno dei due, non è che possiamo sommarli entrambi, cioè in ogni riga e in ogni colonna si deve essere un unico habitat, va bene, questo signori è il funzionamento di Keystone, North America. Bene signori, quindi questo era Keystone North America, opera prima di Rose Gauntlet Entertainment, questa nuova casa di produzione, cosa ne pensate ragazzi di questo gioco? Che ne dite? Vi ha convinto questo tutorial con esempio di gioco? Beh, se volete sapere che cosa ne penso io, andatevi subito a vedere il nostro video con la nostra analisi critica, trovate il link qua sotto in descrizione, e ovviamente sul sito lamascherariposta.it trovate una recensione scritta approfondita, se preferite il testo scritto. Io vi ringrazio moltissimo per aver guardato questo video, spero vi sia stato utile, se avete dubbi o domande scrivetele nei commenti qua sotto, se il video vi è piaciuto condividetelo, e mi raccomando se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, perché abbiamo tante tante novità che non vediamo l'ora di condividere con voi. Mosè dalla maschera riposta vi saluta, e vi dà appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti!